C'è un'idea di futuro che poggia su un piano? Il medito medio pro capita, il PIL, il tasso di internazionalizzazione, il tasso di occupazione e disoccupazione sono stati nel ventennio 2.200 tutti peggiori rispetto al punto di partenza. In più il fatto molto preoccupante è ripresa la migrazione dei giovani, soprattutto quella fra i 19 e i 34 anni con alto tasso di scolarizzazione. Noi invece per programmare il futuro della Calabria abbiamo necessità di un capitale umano ad alto tasso di competitività e soprattutto i giovani che sono quelli più preposti e hanno un'attitudine al cambiamento e alle tecnologie, quindi dobbiamo fare in modo di mantenerli. Noi oggi abbiamo presentato la nostra idea di futuro, abbiamo la idea ben chiara da questo punto di vista, che è un piano di politiche economiche che ha due direttrici. Una direttrice deve essere di contenimento e anticiclica, quindi da qui a brevissimo credo che sia necessario mettere in campo delle misure sulla liquidità, magari utilizzando Fincalabra, Fincalabra, perché l'autunno sarà particolarmente difficile e complesso, le imprese hanno necessità di liquidità per fare bisogno di cassa, per riequilibrio finanziario o anche per fare riconversione e rimodulazione delle proprie attività produttive. Però bisogna anche pensare ad azioni espansive, quindi bisogna pensare al futuro, quindi su due faccio la stessa medaglia. Da questo punto di vista c'è necessità A di rafforzare il sistema produttivo che già abbiamo, perché intanto partiamo da quello che abbiamo. Per poter fare questo, investimenti in trasformazione digitale, ma anche competenze digitali. Questo perché dobbiamo modernizzare il nostro sistema produttivo, renderlo idoneo ad affrontare le fide del futuro e la competizione dell'economia del futuro. Dall'altra parte dobbiamo invece rilanciare gli investimenti privati e gli investimenti pubblici. Sotto quelli privati dobbiamo allargare la base produttiva, facendo delle misure che stimolano gli investimenti regionali, nazionali, ma soprattutto io parlerei di reshoring Calabria. Noi abbiamo sentito parlare durante la fase del lockdown come il nostro paese si è spogliato di tantissime produzioni strategiche. Le catene del valore internazionale si stanno accorciando, tutte le regioni italiane si stanno attrezzando per riportare produzioni che sono state decentralizzate in Cina o in India. Noi su questo ci possiamo giocare una grande partita, soprattutto se siamo intelligenti nel fare scouting, di reshoring ad alto valore aggiunto, che può essere un grande serbatoio per i nostri giovani e che può attivare delle filiere. Su questo però bisogna essere chiari su due posizioni. Le ZES in questo momento, soprattutto per le grandi imprese internazionali, sono poco appetibili. Bisogna necessariamente implementarne con ulteriori misure di incentivazione perché le grandi organizzazioni imprenditoriali internazionali vanno dove ci sono le convenienze. Le imprese devono sempre fare quadriconti e quindi da questo punto di vista c'è necessità di implementare quelle misure e poi di rendere le ZES che ricordi insistono sulle aree industriali porre fine a quella che è la questione delle aree industriali che in questo momento non sono accoglienti, sono abbandonate a se stesse. C'è necessità da questo punto di vista di rendere accoglienti, quindi trattamento dell'acqua, trattamento dei rifiuti, logistica, quindi connessione con porti, aeroporti, strade, ferrovie, accoglienza, infrastrutture digitali, sicurezza, verde, segnalettica. Quindi sono tante, però da questo punto di vista abbiamo preso dall'assessore Orso Marzo che c'è un forte impulso per andare in questa direzione. Dopodiché io credo che ci sia necessità di avvicinare con delle misure anche di alternanza scuola-lavoro il mondo delle imprese a quello delle scuole professionali e anche delle università. Io credo che ci possa star bene anche una misura sull'imprenditorialità giovanile per stimolare il giovane a prendere il futuro con le proprie mani. È evidente che poi ci sono tre requisiti che sono indispensabili. La semplificazione delle procedure perché è evidente che l'execution deve essere rapidissima e velocissima tra ciò che diciamo, progettiamo e ciò che facciamo. E poi è evidente anche che c'è un altro elemento che non può essere trascurato e cioè le infrastrutture. Da questo punto di vista opere pubbliche, certamente il completamento dell'agente 6, l'elettrificazione della linea ferrata ovviamente della parte ionica. Però tre in particolare sono fondamentali. Alta velocità, non quella che ci stanno propinando che è un omodornamento della linea attuale, ma deve fare in modo la large che faccia Reggio Calabria-Roma in tre ore. Il porto di Gioia Tauro che deve essere un attrattore di investimenti per il retroporto, quindi non solo stoccaggio ma anche produzione. E a mio avviso grande area logistica, sia area XSIR di La Mezza Terme sia porto di Gioia Tauro, da tenere molto, diciamo, da monitorare molto attentamente il gateway ferroviario del porto di Gioia Tauro perché quello è fondamentale. Infine, ho adesso me più ponte sullo stretto. Questo è un grandissimo attrattore che a mio avviso, permettetemi di dire, è un punto di svolta rispetto al dopoguerra dove l'autostrada del Sole è stato un simbolo di sviluppo e lo ha determinato. La Salerno-Gio Calabria è stato un simbolo di sottosviluppo e un po', diciamo, lo ha determinato. Allora, a mio avviso, in questa direzione può essere, non solo simbolicamente, ma un grande attrattore di investimenti. Non dimentichiamoci che insiste sull'asse 5, la valletta Helsinki, corridoio 5 e quindi diventa una grande infrastruttura europea e finalmente possiamo emanciparsi rispetto, diciamo, a quello che è stato il nostro passato di direttatezza e di sottosviluppo. Invece possiamo guardare con ambizione al futuro. Grazie a tutti.